ciao a tutti oggi prepareremo la granita di melone il tempo di preparazione della ricetta è di tre minuti circa ingredienti sono melone cantalupi tagliato a pezzi ghiaccio e zucchero diamo il via alla ricetta iniziamo mettendo all'interno del boccale lo zucchero chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 prendiamo lo zucchero sul fondo del boccale aggiungiamo il melone chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 7 secondi a velocità 7 aggiungiamo il ghiaccio chiudiamo con il coperchio questa volta senza il misurino posizioniamo la spatola e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità da 6 sino ad arrivare a 8 spadolando la granita è pronta trasferiamola in dei bicchieri granita melone nella versione con e senza panna grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti